ah guarda posso mi ha dato una spinta la conquesta quella macchina il nuovo aggiornamento mi fanno sbandare e ancora unicesima posizione dodicesima posizione ah guarda questo è uscito male e vai e diamo guarda eh che sto dietro scemo oh guardalo hai visto la Italy cosa ha fatto scogli scogli non stai in mezzo con quello guarda vedi cazzo cazzo guarda forse no niente guarda as pronto soak guarda 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.